46, Concetta Mondanini, Saverio, Gerardo, De Nichilo Con il numero 81, Anna Maria Arzaiton, Nicola Nero Con il numero 106, Patrizia Marina Flamini, Alessandro Barbone 110, Federica Gualina e Giovanni Boccu Con il numero 189, Loretta Lullis, Androvegni E con il numero 190, Rachele Coppola e Salvatore Gallo E complimenti alle 6 coppie finaliste senior 6 classe AS Iniziamo subito con Balzer Lento Un grande magazzino una volta al mese Spingere un carrello pieno sotto braccio a te E parla di surgerati, rincarati Parla con amici e sento che ti appoggia a me Prepararsi alla partenza con gli sci e scarponi Essersi sveglia di presto prima delle 6 E fermarsi in trattoria per un panino E restare due giorni a letto e non andare più via E l'applauso per questo Balzer Lento E grazie alle coppie in pista Vedo le coppie già pronte E grazie alle coppie in pista E grazie alle coppie in pista E sentiamo l'applauso per il tango di queste coppie Pronte per quicstep Grazie a tutti. 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 Patrizia Marina Flamini e Alessandro Barbone, Diva International Regione Abruzzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.